Ma siamo in onda? Ma cosa bella è che siamo ancora in onda? No, ma non siamo in onda. Cerchiamo di andare sempre a 1 mattina. No, 1 mattina! Esatto, adesso facciamo tutto il sigle. Non siamo più in onda, vero? Sì, sì, sì. E' un'azienda di lavoro adesso. Grazie! 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 Grazie!